Col gruppo abbiamo deciso di riproporre Alessandro e Alberto come sindaco di Cagli e ne sono orgoglioso, sono felice anche perché sono stati questi cinque anni, sapete tutti, senza ripetere il covid, l'alluvione, anni abbastanza difficili, abbiamo tanti progetti in piedi che vorremmo portare a conclusione, ma soprattutto vorremmo che fosse ormai istituzionalizzato questo modo che abbiamo portato di fare amministrazione con la gente, parlando con la gente, cercando soluzioni che a qualcuno fanno sicuramente male ma fanno bene alla maggior parte dell'altra gente, ma soprattutto che porteranno Cagli ad avere un futuro, un futuro guardando a nuovi posti di lavoro, a nuove prospettive e vedendo una Cagli che ha tanto ma che deve entrare in un circuito turistico, che produca poi sviluppo culturale, che produca poi sviluppo economico, che crea quindi posti di lavoro. Questo è il nostro obiettivo, lo stiamo portando avanti pezzettino per pezzettino, sappiamo che qualsiasi passaggio culturale ha bisogno di tempo e quindi questi cinque anni mi farebbero comodo per mettere un altro tassello importante a quello che deve essere Cagli dei prossimi cento anni.